Ciao a tutti, questo è un video aggiornamento per informarvi su alcune evoluzioni del canale per chi mi conosce da poco dovete sapere che questo canale è nato molto tempo fa e in realtà non ho mai avuto un focus, nel senso che all'inizio parlavo di Linux poi sono passato un po' alla programmazione, allo sviluppo web e infine sono passato alle criptovalute che è stato l'argomento che ha avuto un po' più successo e tuttavia rimane un canale sperimentale nel senso che non vorrei focalizzarlo troppo su un argomento spero continuerete a seguirmi ma appunto un po' di tempo fa ho rinominato il canale in Luigi Tecnologo proprio perché vorrei trattare altri temi che riguardano la tecnologia però sempre in modo un po' così discorsivo e quindi spero continuerete a seguirmi e poi appunto ultimamente non ho più la possibilità di fare molti video però penso che riuscirò comunque a fare un video a settimana almeno e cercherò appunto di trattare temi nuovi spero vi piaceranno e continuate a seguirmi ciao e ci vediamo in un altro video